E sono qui con Loredana ragazzi, che ha le pagliuzze negli occhi perché è uscita dallo stage di Santiago. E' bellissimo, è bellissimo lui, è bravissimo, avessi un decimo di quello che sa fare lui, però ci provo. Che emozione è quando si guarda e quando si apprende da questi grandi maestri? E' una grandissima emozione, proprio perché vuoi proprio provare. Io poi sono soddisfattissima perché anche dei principianti della nostra scuola sono venuti a provare ed è bellissimo, è proprio bellissimo. Ringraziamo Loredana, lasciamo andare perché adesso da uno stage all'altro non è che ha molti minuti liberi. Sì, vado a provare Francesco Niquipali. Buon divertimento. Ciao.